allora adesso che abbiamo mangiato intervistiamo i presenti cominciamo con marco marco come sei stato questa sera ma anche senza roberta meglio senza roberta e te gina come sei stata e voi siete stati bene benissimo sì e te rita che gli dici a roberta ma come mai questa cosetta piccolina mi vede grande grande con la sole proprio perfetta ciao roberta meno male che ne è venuta e te che gli dici a quella la roberta mi è piaciuto tanto che non c'eri alla prossima volta terenza ciao roberta ecco lei invece che lei cosa dice io dico che la prossima volta al delfino vieni anche te con tuo marito ciao ciao ma che faccio vengo o non vengo mi notano più se mi vedono o se non ci sono ciao roberta